Sono molto onorato di essere qui dall'Olanda per raccontarvi della mia esperienza sulla dislessia nei posti di lavoro, sul luogo di lavoro, ma vi lascerò il tempo per applicare le vostre cuffie e per sintonizzarvi sul canale adeguato. Siamo a posto? Bene. Quando stavo per venire in Italia, due giorni fa, stavo leggendo un articolo su un importante immigrato qui in Italia, è venuto in Italia circa 100 anni prima di Cristo, era nato in Turchia, il suo nome vorrei ripetire, non so come si dica in italiano moderno, era il fondatore della scuola Stowa, che aveva questa frase che io ho trovato molto appropriata e che vi dirò, lui disse, pezzo della mente eguaglia la capacità di veramente comprendere la natura delle cose e di accettare, quindi l'accettazione di essere dislessico è uno degli argomenti di cui vi voglio parlare oggi. Noi oggi parliamo degli impiegati che hanno cervelli speciali, la dislessia, l'ADHD, dell'autismo e differenti IQs, costanti intellettivi, possiamo trovarli negli bambini come negli adulti, possono essere trovate nei managers come anche negli imprenditori, come me ad esempio, io ho un mio business, dottori, avvocati, anch'io sono un avvocato, ho studiato legge Rotterdam, psicologi, ma anche tutte le persone di questo mondo, macellaie, segretari, poliziotti, costruttori, giornalisti etc., quindi se vedete qualcuno in una fabbrica che guarda le cose come questo personaggio nella slide e che sta leggendo come questo, potrebbe aver bisogno degli occhiali ma potrebbe anche essere dislessico, se vedi in una scuola, una classe, sto parlando della dislessia, non dimenticatevi di guardare non solo gli studenti ma anche gli insegnanti, forse uno dei vostri colleghi potrebbe essere dislessico, quando siete negli uffici, in ogni ufficio ci può essere un dislessico, dopo vi dirò le statistiche, vi parlerò di un caso in cui un pubblico ufficiale, non un poliziotto, ma uno che giudica piccoli reati e vi parlerò di questo caso e poi vi parlerò di un dottore, anche un caso, e questo è un caso che mi ha rubato il cuore, era un consergio, questa era una donna, lavora in una banca e vi racconterò tutto di lei, e questo sono io, questa è la storia, è passato tanto tempo, credo che fosse il 1992 o 1993, ero molto giovane allora, leggevo le opere italiane ed ero un segretario di un giudice, e questo implicava un sacco di lettura e scrittura, perché la giustizia riguarda più testi che vengono dentro e che vanno fuori, che non nel rapporto con le persone, per questo questo era molto difficile per me. Io ho sia dislessia che ADHD, sono diventato anche un buon avvocato, sono diventato bravo nello scrivere l'olandese, perché questo riguarda un allenamento quotidiano e quando fai un errore devi correggere, e quindi io ho imparato un sacco, quindi lasciatemi presentare un po' di più, adesso sono quasi 59enne, ho scoperto di essere dislessico quando ero grande, non sapevo neanche che esistesse negli anni 80, la parola dislessia è venuta fuori per la prima volta, poi ho scoperto di avere anche il problema dell'ADHD, e quindi mi curavano la dislessia con gli psicologi e l'ADHD con gli psichiatri, io ho usato l'Aurorix, che è molto comune per l'ADHD anche in Italia, il Moclobemide, il principio attivo, ho parlato molto dei miei problemi di pianificazione, e dopo un anno ho scoperto che leggevo meglio, e da allora io mi prendo il tempo per leggere, e quindi vado al mattino, sempre più tardi a lavorare, mi prendo un paio di caffè e mi leggo mezz'ora, un'ora, tutti i giorni, in questi sei anni ho letto tre scaffali di libri, ho iniziato veramente dalla prima pagina e ho finito davvero la pagina 300, per molte persone è una cosa normale, per me non lo era, prima non leggevo libri, leggevo solo i disegni, le conclusioni, i grafici, arrivavo alle conclusioni, questo riguarda le cure che ho fatto, io non chiederò mai a una persona di usare delle medicine, ma per me quando sei sopra i 50 hai bisogno di un supporto ulteriore, anche per darti più energia, almeno per me, quando sono diventato un membro dell'associazione della dislessia olandese, sono diventato attivo nelle comitati e sono stato anche presidente dell'associazione per sei anni, ma adesso c'è la persona che lo fa, io sono l'ambasciatore per portare ad esempio in Italia, per parlarvi della dislessia, sono il fondatore della società Equisto, che è una società di training, noi ci definiamo esperti nelle persone che lavorano nei lavoratori, non siamo in generale per gli impiegati di qualsiasi tipo, gli impiegati ci pagano e noi gli facciamo formazione, come vi ho detto ho studiato legge, sono un avvocato e ho anche studiato tre anni in un istituto per essere un terapista, sono entrato in questa idea di diventare un terapista dalla mia esperienza, perché lavorando in un tribunale con la dislessia ho scoperto che era veramente un problemino, se tu lavori così tanto e poi stai per divorziarti e poi qualcos'altro succede, tutti abbiamo i nostri problemi, le nostre limitazioni, quindi nel 1980 credo ho chiamato Time Out e sono andata da uno psicologo a fare terapia, ci sono un sacco di tipi di terapie, io sono andata da questo tipo e sono stato male per sei mesi, ho avuto problemi di alcolismo, bevevo troppo, ma dal momento che questa terapia mi ha aiutato molto, allora ho iniziato dalla mia esperienza, a capire l'aspetto psicologico degli esseri umani, anche nella legge la razionalità era la cosa più importante, ma dalla mia esperienza io sono passato al lato psicologico e poi ho fatto più formazione, più terapia, perché tutto quello che impari nella psicologia è tutto su te stesso, non sugli altri e quindi dopo mi sono formata come terapista anch'io, sono il papà di tre bambini, due di loro hanno la ADHD, anche la mia figlia è dislessica, mio figlio che adesso ha 21 anni, legge molto velocemente e molto bene, in modo molto accurato, quando lui apre un libro e legge è molto veloce, adesso in due ore legge un libro e capisce molto bene cosa c'è scritto, con questione di delettivo di 150, anche la mia figlia ha un questione di delettivo molto alto, però anche mia figlia è stata diagnosticata con la dislessia. Il terzo figlio crediamo che abbia problemi di attenzione anche se non è ancora stato diagnosticato con questi problemi, questa è la mia famiglia, questa mattina ho preso fuori… al mattino prendo fuori tutte le pillole per tutta la famiglia, ognuno ha le proprie pillole. Grazie, vi dirò qualcosa di più su questo, siamo esperti sui lavoratori, noi siamo dei coach, degli insegnanti, noi abbiamo specialisti anche su terapisti di vita, ma soprattutto siamo specialisti sulle persone che lavorano, noi possiamo insegnare qualsiasi problema di lavoro, non solo per la dislessia o problemi di questo genere, possiamo anche insegnare a noi non andiamo mai oltre le nostre esperienze. uno psicologo, uno psichiatra, un allenatore, un terapista, un neuropsicologo, abbiamo un neurologo, abbiamo avvocati, abbiamo consultanti dell'organizzazione, tutte queste persone lavorano con le persone che lavorano e poi abbiamo gli esperti per le diagnosi, quindi quando qualcuno si sospetta che abbia un problema del sonno, chiamiamo un neurologo e sanno dove mandare le persone. Allora, la dislessia nei posti di lavoro, io affronterò quattro aspetti, prima di tutto il punto di vista del datore di lavoro, poi il dipendente, l'impiegato. in italiano è più forte, in olandese non suonerebbe così bene, il datore di lavoro è quello che dà il lavoro. poi passeremo da essere un peso a essere un bagaglio e poi vi dirò che la dislessia non viene mai da sola, non solo per gli effetti psicologici, ma poi vi spiegherò meglio questo punto. e poi la parte importante è come insegnare, come guidare, come fare la diagnostica, come trattare la dislessia. quindi prima di tutto il datore di lavoro, lasciamo da parte un attimo gli impiegati e provate a mettervi nei panni del datore di lavoro. voi avete 10 o 10.000 impiegati, cosa vogliono i datori di lavoro? vogliono dei dipendenti che sono nel giusto posto, che utilizzano le loro qualità, che evitano i loro limiti, che cooperano nei gruppi di lavoro e che sono produttivi. un datore di lavoro vuole conservare gli impiegati giusti e far uscire quelli che non lo sono dall'azienda, il concetto è la persona giusta nel posto giusto, quindi non vogliono persone che portano degli handicap. io sono un datore di lavoro anch'io e quando sono nel ruolo del datore di lavoro, io non sono interessato al tuo handicap, ti pago per la tua intelligenza, per la tua creatività, per le tue qualità, ma non per i tuoi handicap. questo è il punto d'inizio. i datori di lavoro sono realistici e sanno che possono ammalarsi, che hanno degli handicap, che hanno problemi a casa, che possono non cooperare, che possono arrivare a lavorare alle 9, andar via alle 5 e non fare nulla. quello che però il datore di lavoro vuole evitare sono i dossier, il dossier in Olanda è il simbolo di un dipendente che sta entrando nei guai e quindi dopo viene mandato da un mediatore, e poi da questo e poi va in tribunale, questi sono i dossier, questo è molto costoso, richiede anche molte energie, non è quello che un datore di lavoro vuole. io non metto le checklist sul mio tavolo quando parlo con le persone, però questa è la checklist che ho nella mia mente, questa è la checklist a cui guardano i datori di lavoro, questi sono i punti principali, prima di tutto il funzionamento, fai abbastanza e fai le cose nella qualità giusta e poi la comunicazione ai clienti, ai colleghi, la cooperazione tra colleghi, il rischio di fallimenti o di malattie, del benessere degli impiegati, l'impiegato, il ruolo dell'impiegato, il ruolo dell'attore di lavoro è di prendersi cura anche del benessere dell'impiegato, perché le persone che non sono felici non producono bene e poi devono usare le qualità nel posto giusto e poi c'è l'ambiente e poi c'è l'ambiente e torneremo su questo e poi ci sono i litigi che diventano conflitti che sono molto costose, quindi non li vogliamo. Ho fatto un metastudio perché li ho tradotto in statistiche dall'ufficio statistico olandese, abbiamo raccolto le percentuali di ADHD, dislessia, autismo, coesione intellettivo, problemi di ansia, depressione o dipendenze, questi sono i principali problemi, non ci sono solo questi ma questi sono i più importanti né di impiegati adulti, né di dipendenti adulti. Diciamo che abbiamo una società di 450 dipendenti, avremo 9 persone con ADHD, 14 con della dislessia, 4 con l'autismo, 14 con giftedness, 23 con ansietà e eccetera. Questi non avranno dei problemi tutti i giorni, però i problemi stanno sotto la superficie. queste sono le statistiche da cui tutti gli anni poi salteranno fuori problemi, dipendenti che crollano, quindi possiamo contare questa fila, una persona con la ADHD ha anche problemi di sonno o ha dipendenza, una persona con la dislessia può essere depressa, quindi stiamo attenti con questa statistica. Questa statistica viene dalle ricerche scientifiche dell'Ufficio Nazionale Scientifico. Noi vorremmo che i dipendenti non avessero alcun problema, che cooperasse e comunicassero bene, ma vi ho fatto vedere dalle statistiche che i problemi ci sono. Queste sono buone notizie dall'Olanda riguardanti i datori di lavoro. Ho incontrato queste persone dal sindacato dei datori di lavoro, le persone che danno il lavoro, dall'associazione dei datori di lavoro, per produrre dei fogli di lavoro e di informazione per l'ADHD, la dislessia e l'autismo e la cooperazione con questa associazione, l'associazione dell'ADHD, della dislessia e dell'autismo e poi le unioni dei grandi imprenditori e dei piccoli e medi imprenditori. Ci sono tre fogli, tre documenti che non sono riguardanti l'handicap o i diritti o i costi o i pesi o gli oneri, ma che riguardano le qualità e perché devi impiegare queste persone. Questo è un buon approccio per iniziare l'argomento, le loro qualità speciali di queste persone. Con l'unione dei datori di lavoro olandesi siamo arrivati a una conclusione. quando parliamo di biodiversità, tutti pensano all'Africa o alla campagna o agli animali o ai progetti per gli animali che muoiono, ma guardiamo invece agli uffici, ci sono le biodiversità negli uffici e nelle fabbriche. Questa conclusione non viene da me, ma viene da loro. I datori di lavoro sono consapevoli che i dipendenti hanno qualità e hanno dei limiti. e vedono che queste persone hanno anche dei talenti speciali, devi solo capire quali sono questi talenti speciali. Questo è il punto di vista dei datori di lavoro. Adesso veniamo dal mio personale adagio che è da peso a bagaglio. Nelle scuole Steven parlavamo del fatto che andremo dall'handicap alle qualità, da disordine, da rischio, da diritti, da perdita produttiva, da malattia. Andiamo più verso le qualità, quindi le competenze, le persone dislessiche sono creative, sono inventive, possono trovare soluzioni, sono fedeli, sono persone che lavorano molto, sono innovative e il guadagno di produzione può assumere una connotazione particolare. Nel mio punto di vista questo sviluppo sta migliorando e per i prossimi anni migliorerà ancora. Quindi il dipendente e il datore di lavoro hanno la responsabilità di non parlare di disordine, ma di disfunzione. Se abbiamo questo concetto in mente, allora capiamo che cosa voglio dire. Le persone hanno queste qualità, ciascuno ha queste qualità e possono essere portati nel posto giusto e possono trovare il posto giusto dove dare il meglio di loro. Quindi questo veramente è qualcosa che ho sviluppato nella mia terapia e uso anche nella mia formazione terapica. Quindi tutti, non solo i dislessici, tutti hanno questo peso. Abbiamo questi traumi del nostro passato, delle maestre che ci sgridano, dei genitori che ci sgridano. Queste sono le eredità dei nostri problemi. Ma poi insegna alle persone e gli fai vedere un altro punto di vista. Gli puoi far vedere che questo peso, questo bagaglio, questo zaino è pieno anche di cose buone. Quindi io non vi parlerò dei miei problemi di 15 anni, perché io sono molto ricco. Adesso ho anche dei soldi, ho anche perso dei soldi, ma la mia esperienza nel mio bagaglio è un modo spirituale di vederla. Non so se conoscete bene la Bibbia, ma quando Gesù era sulla montagna e aveva questi pesci, questi pani e li stava moltiplicando. Questa è la metafora che se hai qualche esperienza puoi darla alle altre persone. e vieni in Italia e lo spiega alle altre persone. E quando sei così non perdi mai, ma vinci sempre. Questo è il mio credo spirituale. Grazie. Io mi occupo delle persone del futuro, diciamo 2015, non so se leggiamo tutto in inglese, ma adesso lo leggo così il traduttore può tradurlo. È una pubblicità, una società innovativa in Modena cerca un account manager. I requisiti sono che deve pensare a lavorare al college level, deve avere minimo 5 anni di esperienza, devono essere persone non di routine, brillanti e problem solver. E la dislessia fa parte delle raccomandazioni. Questo è il futuro su cui stiamo lavorando. E quindi hai il coraggio, non scrivere chiama solo. Adesso ci siamo divertiti un po', adesso andiamo alle cose serie. La dislessia non viene mai da sola. So che adesso sto lanciando una sfida. Specialmente so che ci sono dei ricercatori scientifici, sarò molto cauto. Sono solo le mie esperienze, però lavoro sulle statistiche. La dislessia non viene mai da sola. È la combinabilità delle cose. Tu puoi avere la dislessia e avere l'influenza. Questa è una probabilità molto alta di capitare insieme. Ma abbiamo anche l'autismo, la DHD e la dislessia. Ci sono già un sacco di ricerche scientifiche. Ci sono duecentogeni dell'autismo, 50 dei quali sono in comune con la dislessia. Quindi l'autismo insieme alla dislessia sono possibili. E poi anche la DHD e la dislessia sono possibili. Questo è provato che vengono insieme. Le persone possono avere autismo e dislessia. Io non ho incontrato molto di questi, ma puoi averli anche tutti e tre insieme. Parleremo anche di questo. Ma adesso vi metterò un punto interrogativo qui. Quante delle persone sanno di avere la dislessia? Facciamo questo passo. Ok. Bene. Se guardiamo la letteratura, guardiamo anche in inglese, in Olanda, ma anche nella letteratura inglese, ci sono il tipo O e il tipo P. Quindi abbiamo una lettura disordinata, non corretta, però vede il quadro generale, ma gli sfuggono dei dettagli. Legge troppo veloce, però intuisce. Mia figlia legge molto veloce, io non leggo molto veloce. vi darebbe fastidio quanto era veloce. Ma il processo di lettura va troppo fast, è troppo veloce, ma non ha un controllo, un autocontrollo. Quindi questo è il tipo L. Qua c'è un limite nella noradrenalina. Mentre il tipo P legge lentamente, ha problemi di spelling, vede tutti i dettagli, ma ha difficoltà a inquadrare il quadro generale, ad andare dalle lettere alle parole e dalle parole alle frasi. Questo è il tipo autistico. Hanno meno connettività nel cervello. Non preoccupiamoci troppo. Questa è la mia esperienza. Parlerò di alcuni casi in cui questa combinazione si è verificata. Ma la scienza vera è qui per dimostrare che le ipotesi non sono vere, non sono corrette. Andiamo al primo caso. ero il dottore di una società. La prima cosa che ha tirato la mia attenzione era che scherzava. Scherzava su di me, sulle cose che succedevano. Ed era fuori contesto, non era nel posto giusto, ma di pochi, di millisecondi. Ma qualcosa mi ha fatto intuire che c'era qualche problema. Quindi ho detto va bene, proviamo a essere informali. il suo manager sapeva della sua esperienza con dislessia. L'aveva già scoperta quando era giovane. In quel momento era molto stressato, era fuori e stava performando meno di quello che poteva. perché quando lui va a stare a casa per una settimana e dopo tre minuti di conversazione con il suo manager, aveva problemi di comunicazione, facevano fatica a comprendersi, il suo punto di vista era diverso dal nostro e stava lavorando molto, era molto stressato. e quindi la sua dislessia aveva difficoltà a trasformare i discorsi in scrittura. quindi c'è uno strumento che si chiama Sperger tu parli al microfono e lui scrive e se è Dragon scrive nel software, nel computer. Solo che c'è un problema funziona solo se il tuo lavoro richiede della scrittura. Deve essere possibile nel contesto del tuo lavoro. quindi per alcuni Dragon Speech dipende dal tipo di lavoro e anche dal livello di linguaggio. E quindi 20 minuti parli con il manager e 5 minuti con il computer e questo va bene. quindi la prima cosa che abbiamo riscontrato è il suo autismo. Sono andato a esaminare problemi di comunicazione e con gli psichiatri e i neuropsicologi li testiamo e avevamo una diagnosi di Sperger. quindi i risultati era di non dargli troppi problemi ma di fargli capire perché c'erano questi problemi perché il suo manager si lamentava perché avrebbe potuto rischiare di perdere il suo lavoro e quindi di fargli capire che se i problemi non cambiavano avrebbe potuto cominciare a pensare a un altro tipo di lavoro però lui diventava molto nervoso attraverso il coaching riuscì ad avere migliori performance si prese più tempo per comunicare con i clienti e i manager e anche cercato dei posti dove poteva comunicare meglio telefonate non sono buone per lui quindi è meglio fare una comunicazione personalizzata personale è una dislessia già conosciuta dalla gioventù e diventò la dottore di una società utilizzava il software da Dragon e adesso i suoi problemi vanno molto meglio la più importante cosa da fare quando bisogna guidare un dipendente è la multidisciplinarietà e l'integralità la multidisciplinarietà è un aspetto organizzazionale spesso sono i colleghi le strutture della qualità dei managers ci sono problemi psicologici dei problemi legali quali sono i miei diritti in questo momento sono di nuovo un avvocato ci sono problemi neurologici come il sonno e altre cose e quindi un approccio multidisciplinare è importante per riuscire a guidare e portare avanti un dipendente con la dislessia la prima cosa da fare se avete clienti o persone con la dislessia vi devo dire questo ditegli tu sei un diamante è una immagine specialmente le persone dislessiche visualizzano immagini e fateli immaginare un diamante il diamante ha più facce solo una di queste facce è la dislessia oltre a questo sei una persona sei sposato o non sei sposato hai uno studio o non studi sei impiegato o non impiegato quindi ci sono diverse facce questa è la prima cosa da dirgli e poi un'altra cosa importante è che il diamante riflette la luce dell'ambiente circostante e quindi tu hai molte facce ma dai anche la luce grazie all'ambiente che ti circonda e ridai all'ambiente che ti circonda la luce che ti dà e quindi ci vuole un approccio integrale partiamo dai geni i geni sono composizioni sono sistemi basilari i geni stimano se rimarrai piccolo e fragile o se diventerai più grande più alto e poi e poi la ghiandola pituitaria nell'utero ci sono delle interferenze chimiche tra gli altri anche lo stress è programmato per il resto della tua vita io avevo questo cliente a cui inizialmente avevo diagnosticato ADHD poi questa fu esclusa abbiamo scoperto che quando sua madre era incinta di lei il suo padre ha cominciato ad essere aggressivo e picchiare la madre mentre era incinta questo causò molto stress che influenza il feto e quindi lo stress venne definito per il resto della vita del feto della persona e quindi l'iperattività l'ipermovimento derivava da questo vero problema noi abbiamo diversi tipi di madri che toccano di più più fisiche diciamo più italiane o ad esempio quelle dell'altra immagine che pensano di più sono meno fisiche questo anche influenza i problemi di attaccamento di affettività e poi ci si incontra con i compagni gli amici e questo dipende dall'ambiente questo causa altra influenza e poi leggi dei libri quando si cerchi di leggere questo è frustrante questa la conoscenza anche arriva nel nostro cervello e poi anche la cultura intorno a noi come le persone comunicano tra di loro come si vestono come si danno la mano come si baciano o come interagiscono questo è l'approccio integrale noi andiamo dai geni alla personalità da come funziona come la tua carriera sta funzionando sta andando quindi i tuoi geni sono influenzati dall'ambiente dagli eventi della vita dall'educazione dalla storia e da queste cose la tua personalità cresce dalla personalità si formano la cultura la situazione i compagni e l'ambiente da tutte queste cose insieme la tua personalità denota il modo di funzionare coinvolge il modo di funzionare il tuo modo di funzionare incide sulla produzione sulla comunicazione sulla cooperazione sulle capacità e queste incidono sulla carriera la carriera poi a volte incide sul futuro sul fatto di essere capaci di svilupparsi di essere nel posto giusto di dare un significato alla propria vita questo approccio integrale viene definito come la visione bio-psico-sociale credo che gli psicologi lo conoscono bene qui e quindi è vedere il quadro generale questo la approccia integrale comporta che se hai la dislessia se sospetti un cliente di dislessia o è diagnosticato con la dislessia devi sempre anche cercare sintomi di ADHD o autismo non dico che è sempre associato ma dal momento che la percentuale di associazione è alta è efficiente economico controllarlo subito se hai la diagnosi di dislessia allora puoi fare lo screening anche per gli altri problemi questo significa anche che è importante ed è ok concentrarsi sulla dislessia per un certo momento quindi se hai solo la dislessia ovviamente ti concentri solo sulla dislessia però è sempre importante avere in mente anche la persona nella sua integrità e il suo ambiente dobbiamo sempre tenere in mente questa regola dobbiamo guardare non solo la dislessia ma veramente l'intera persona per il training e anche l'ambiente quindi ci sono diversi passaggi prima di tutto se non sai che hai la dislessia qualcuno deve dirtelo qualcuno deve dirti accidenti fratello dovresti vedere un medico farti vedere da un medico e tu stai scrivendo questi email strani quindi forse uno psicologo potrebbe aiutarti se nessuno te lo dice sei nei problemi quindi il tuo manager il tuo coach loro devono scoprire il problema capire il problema poi bisogna andare a fare lo screening e a quel punto si arriva la diagnosi questo step è anche molto importante lo screening in Olanda il costo va dai 700 ai 1000 euro per una diagnosi di dislessia perché fai test lo screening quindi prima si fa lo screening e poi si fa la diagnosi quando la diagnosi è chiara dobbiamo fare il trattamento occuparci del trattamento e del coaching vedremo alcuni passi del processo di scoperta della dislessia noi noi abbiamo diverse persone all'interno delle aziende che non devono diagnosticare la dislessia ma solo rilevare dei problemi e quindi c'è una specie di questionario queste sono le domande ci sono difficoltà con la lettura con la scrittura c'è la procrastinazione che è quella di posporre gli incarichi scritti che richiedono la scrittura nelle tue esperienze scolastiche negative ad esempio ti piaceva leggere leggevi libri dall'inizio alla fine è una domanda che ti puoi fare problemi di comunicazione di timing di gestire il timing quando ci sono problemi nella comunicazione e nell'interazione con l'ambiente devi sempre prendere in considerazione la dislessia l'autismo e l'ADHD questi sono i fattori principali dei problemi di interazione e di comunicazione tra le persone e anche se andiamo un po' oltre possiamo vedere i sistemi di eccesso di compensazione dagli eccessi di compensazione o dalle strategie per affrontare questi problemi possiamo anche vedere questi problemi ad esempio l'eccesso di correzione potrebbe essere un segnale anche scrivere email troppo corte o troppo lunghe troppo strutturate o caotiche quindi ad esempio le email sono un mezzo fantastico per accorgersi della dislessia in situazioni lavorative questo è un questionario europeo per il progetto Learning Gateway questa è una checklist per gli adulti questo ad esempio ci possono essere nella conversazione problemi nel trovare le parole a volte noto come parlano le persone che stanno andando avanti che le parole sono nella mente ma la persona dislessica non riesce a trovarla e anche pronunciarla è difficile e quindi se scopri problemi nel cercare o trovare le parole questo può essere un sintomo è un'indicazione ovviamente non è una prova però è un'indicazione quando si parla delle scuole bisogna sempre controllare le tabelline 8x6 48 gli anni storici se hai problemi di questo genere si può sospettare una dislessia poi lo step 3 per diagnosticare un adulto è richiesto uno specialista in Olanda è lo psicologo che fa questo tipo di diagnosi c'è molta discussione anche il terapista della parola il fonologo per me va bene che sia lo psicologo purché sia specializzato nella dislessia nell'autismo nella ADHD lo psicologo non può fare un test quindi deve sapere bene che cosa sta facendo non entreremo nel dettaglio di tutti questi test perché saranno molto tecnici e quindi li salteremo ho messo i test di intelligenza è possibile diagnosticare la dislessia senza strumenti e qui ci sono altri test ma in Olanda se hai bisogno di una diagnosi ufficiale i test devono essere utilizzati il problema con gli adulti è che questi test sono tutti validati per i bambini ma la situazione del bambino è molto più facile l'avete già anche detto voi nella scuola quando hanno 5, 6, 7 anni sappiamo esattamente a quale livello di linguaggio il bambino deve essere ma adesso un adulto ha 59 anni qua c'è un adulto che parla bene quindi apparentemente non ha alcun problema con i testi ma non sapete quanto tempo ci ho messo per creare questa presentazione quindi un dipendente adulto è in una specie di nebbia perché sta utilizzando anche dei sistemi di gestione del suo problema sta nascondendo il suo problema tutta la lista delle soluzioni che si trovano a livello sociale quindi non so se conoscete la serie Colombo negli anni 80 era un ispettore di polizia non la conoscete bene a volte io mi sento come Colombo che fa le ricerche poliziesche e poi costruisce un sospetto dobbiamo andare attraverso tutti i trucchetti i nascondigli e quello che si usa per nascondere qualcuno può dirmi quanto tempo ancora Giacomo grazie andiamo avanti questo è qualcosa nuovo devo confessare che non l'ho ancora sperimentato a me piace vederlo per conto mio non l'ho ancora visto ma questo è un test un software di test per adulti olandese belga interattivo per la dislessia questo lavora con delle parole che compaiono improvviso sullo schermo e questo è altamente discriminante per la dislessia adesso sta funzionando da sei mesi ed è validato soprattutto per gli adulti questo sarebbe più economico per diagnosticare la dislessia lo step 4 l'organizzazione del trattamento il trattamento oppure della dislessia è il training linguistico è tutto quello che ci sta dietro quindi se consideriamo il training linguistico lo si fa solo se è rilevante per il contenuto del lavoro oppure per un adulto che entra nel mondo dell'educazione della scuola della scolarizzazione e deve prendere in considerazione il livello attuale di linguaggio e di educazione scolastica bisogna considerare se l'adulto riesce a scrivere le email io ad esempio ho un livello linguistico che è sufficiente se c'è questo tipo di situazione non ha senso non hanno le motivazioni per fare un training linguistico e comunque il training linguistico è possibile questa è la mia consigliere allegra consigliere che fa un lavoro tecnico ad esempio in una banca lei ha lavorato in questa banca per 25 anni stava funzionando molto bene non c'erano problemi non c'erano problemi o proteste ma poi il consiglio d'amministrazione decise che lei doveva avere un diploma e io penso che il consiglio d'amministrazione doveva fare della terapia psicologica avevano sbagliato completamente ma comunque non importa ma in quel momento decisero che lei doveva avere un diploma altrimenti sarebbe stata licenziata quindi avrebbe perso il lavoro e quindi sarebbe stato un problema lei andava molto male nelle lingue scriveva email molto corte di 5 parole massime lei lavorava solo con le sue mani ed era una persona molto allegra e non aveva problemi quindi l'abbiamo dimostrato la dislessia in modo molto semplice poi abbiamo fatto un training linguistico a un livello adulto è stato molto difficile lei aveva bisogno di andare a scuola allora adesso lo psicologo ha lavorato sul suo linguaggio perché dopo la scuola elementare lei non aveva più ricevuto scolarizzazione la scuola era un ambiente ostile per lei e quindi siamo andati in questa scuola per adulti e c'era una persona molto gradevole che non ha usato la pena rossa per correggere e quindi l'ho portata in questa scuola dove gli psicologi hanno insegnato a lei la lingua il momento in cui mi ha rubato il cuore è stato quando mi ha telefonato dopo sei mesi dicendomi che era molto felice ha telefonato al mio ufficio e questo è stato stupendo qua c'è una cosa speciale che ho scritto qua dopo che ho insegnato a lei per nove mesi e l'ho conosciuta e se me lo chiedete avevo un grosso sospetto che fosse anche autistica i problemi che aveva con il linguaggio lettera per lettere il problema in modo in cui parlava parlava di tutto del tempo della banca io avevo questo forte sospetto ma non tutti coloro che hanno un problema con i geni e con il cervello devono essere diagnosticati bisogna guardare la situazione qual è la situazione lei non ha problemi tutti sono felici lei è felice e quindi perché preoccuparsi di tirar fuori l'autismo quindi questo per me è stato il primo caso in cui non ho spinto per far uscire questo problema il più delle volte sono molto aperto al cliente e quindi cerco di non perdere la fiducia anche del cliente questa è stata la prima volta ma è importante realizzare che non sempre bisogna fare tutto bisogna guardare la persona e il suo ambiente se è necessario scoprire tutto oppure no qua emerge il vostro immigrato il step 5 la persona in sé deve capire che cos'è la dislessia ricordiamoci la frase spiegare il cervello se sei un coach o uno psicologo o un insegnante devi accertarti che la persona in sé capisca qual è il suo problema che cos'è la dislessia perché se devi accettarlo ciascun psicologo sa che c'è un processo di accettazione se hai un handicap o se hai divorziato c'è sempre una fase di accettazione ma non puoi accettare qualcosa che non capisci se è una scatola nera noi potremmo non accettare la scatola nera dobbiamo studiarla ufficialmente viene chiamata psicoeducazione è uno step molto importante perché dall'accettazione allora che i tuoi problemi sono connessi alla dislessia e quindi tutte le frustrazioni da scuola la paura di fallire il tuo credo la tua autoconvinzione di te stesso tutti gli insegnanti mi dicevano che io non ero stupido o che facevo ancora errori o che quando avevo 10 o 11 anni nella mia testa dicevo io sono stupido non sono capace questo era la mia la mia condanna vita oggi io ho avuto molto successo la mia società funziona bene la mia società è stata ha avuto molto successo e io ho lavorato in tribunale ma anni fa c'era questo bambino nel passato che credeva di essere veramente stupido ma c'è ancora non so dove sia andato ma questo bambino c'è ancora e quindi è molto importante superare gli effetti psicologici della tua dislessia il passo 7 è molto importante non creare vittime perché se tu vittimizzi le persone parli a loro dei loro handicap oh sì come è difficile per te adesso ti aiuterò no una persona con un handicap ha le sue responsabilità è la tua vita tu devi vivere con questa vita io ti mostrerò la strada ma è la tua vita e tu fai le tue scelte e vai tu a spiegarlo ai tuoi manager questo per un impiegato è un passo importante un altro caso c'era questo vigile arrabbiato il suo problema era la dislessia dall'infanzia lui lo sapeva prima che io lo sapessi della mia lui voleva un lavoro migliore e un aumento di stipendio ma lui doveva fare un esame lui era un vigile che controllava i parcheggi ma aveva anche altre cose altri incompiti quando è arrivato ad acquisto noi facciamo 4 o 5 cose contemporaneamente prima di tutto il training linguistico per dislessia il suo il coaching per il suo esame e noi abbiamo parlato insieme io e lui della sua carriera e questo uomo aveva così tanto volontà di fare carriera lui affrontò gli esercizi dell'esame con una volontà molto forte insieme a questo viene mandato da noi solo per la dislessia e dopo due mesi il suo manager mi chiamò e mi disse dal momento che gli stai facendo formazione noi abbiamo un problema non solo di dislessia ma anche dei suoi rapporti con le persone lui non è aggressivo ma i cittadini quando parlano con lui diventano più aggressivi a loro volte quindi il suo modo di opporsi alle persone di porse con le persone e quindi quando andiamo dentro al resto della sua personalità rilevamo anche ADHD quindi qui si vede che la dislessia è un target ma poi di fianco a questo lavorando appunto scoprendo i problemi con il manager e con il suo ambiente abbiamo scoperto anche gli altri problemi e quindi lui fece molto lavoro su se stesso in quell'anno e ottenne la certificazione l'esame e solo un anno dopo ci fu un altro sforzo da parte nostra per portarlo a un altro livello del suo lavoro ok quindi adesso veniamo allo step 8 un sacco di step vi state ancora seguendo ci sono un sacco di informazioni mi rendo conto il dipendente deve imparare delle cose quindi dall'imparare che cos'è la dislessia dopo bisogna andare al passo successivo e la cosa più importante è come informare gli altri della tua dislessia non come una vittima ma come si fa allora si è impaurito saranno negativi nei confronti di questa informazione quindi tra le altre strategie per gestire questa situazione quindi una delle strategie di solito dei dislessi ce la farò da solo per un'altra volta devi imparare nuove vie per gestire una delle cose più importanti è come informare i tuoi colleghi il tuo manager di questo problema e non per favore non parliamo di io ho il diritto di stare in silenzio non facciamo questi errori pensiamo alla nostra autoaccettazione sei capace o sei negativo di gestire l'autoaccettazione ciascuno di noi ha dei limiti e se tutte le persone non affrontassero i propri limiti rimarremo fermi e non valorizzeremo le nostre qualità noi abbiamo imparato che le persone con la dislessia e con problemi di ADHD devono farsi forza devono imparare a gestire questi neurotipici questi diversi neurotipici i neurotipici sono le persone che non hanno problemi non hanno la dislessia non hanno l'autismo non hanno l'ADHD quindi quindi se hai un ufficio o una fabbrica tutte queste persone devono lavorare insieme questo è un problema abbastanza complesso in un ufficio quindi partiamo con il tipo ADHD che è un pensatore olistico quindi se c'è un problema in un attimo lui arriva alla conclusione invece abbiamo il tipo autistico che ti direbbe tutti i dettagli tutti i problemi che emergerebbero e invece il tipo neurotipico farebbe le cose passo per passo come è che stiamo facendo questa cosa in questo modo quindi se abbiamo questi tre tipi diversi dobbiamo farli cooperare e se riusciamo siamo veramente dei manager quindi non entriamo negli aspetti scientifici di questi tipi di queste tipologie ma facciamo in modo che le persone cooperino se mettiamo una persona dislettica con una segretaria che è un po' autistica ma è molto brava nei dettagli allora la persona dislettica non dimenticherà le cose quindi cerchiamo di combinare le persone in modo che si compensino adesso arriva un momento importante io sono molto orgoglioso di questo questa è una mia invenzione spero che voi riconosciate questa è una medaglia in Olanda io ho inventato una medaglia come sapete io spero che in Italia succederà lo stesso nella medaglia c'è un lato e il retro nella parte frontale di questa medaglia c'è il successo perché questo è quello a cui devi puntare ricordiamoci che non sto dicendo che la dislessia non è un handicap dico solo che dobbiamo vedere anche il successo le qualità c'è sempre un lato frontale e un lato retro della medaglia questa medaglia viene data dall'associazione olandese della dislessia alle persone che hanno fatto delle cose buone per la dislessia nell'anno precedente adesso 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 ne date sei a persone diverse in Olanda e quando sono venuto in Italia parlavo con il management dell'associazione per la dislessia e quando mi hanno suggerito quando venivo in Italia di dare a una persona una persona presente che abbia fatto molto per la dislessia e che abbia una storia prima dell'associazione italiana perché questa persona è un simbolo per tutte le persone in Italia che lavorano sulla dislessia che combattono per i diritti che studiano che fanno ricerca che ne parlano che insegnano nell'università che organizzano questi congressi adesso vorrei invitare il professor Stella perché stavo parlando di lei vieni vieni adesso Elisabetta non per me non per me sono io voglio dire presentare che non per me non per me io voglio dire presentare un po' così direi a tutti noi di dare questo di dare questo sono tornati che è la prima persona che ha lavorato in questo sono durante anni e con un'altra so bravo tutti 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 nessun problema oh ok venga qua congratulazioni scusatemi per l'errore ma cos'è questo è il mio cervello caotico ok quanto tempo abbiamo ancora 5 minuti ok 5 minuti vi chiedo ancora 5 minuti della vostra attenzione immagino che questo sia molto pesante posso sentirlo anche io ho bisogno di un break quindi le ultime pagine noi stavamo parlando dell'atto delle qualità tutte le qualità di queste persone con la dislessia che sono creative inventive visualizzano molto non ditelo ma non c'è nessuna prova scientifica di queste cose tutti ne parlano e in tutti i congressi se ne parla ma io non ho trovato ricerche scientifiche tranne che questa ricerca su questi imprenditori che hanno più probabilità di avere la dislessia dal momento che sono in una università vi chiedo per favore di provare o provare che non è vero questa qualità da parte dei dislessici questo è un punto chiave io sono un adepto di Gardner lui ha fatto uno studio molto importante sull'intelligenza sulla intelligenza linguistica e anche sull'intelligenza matematica anche sulla capacità interpersonali anche sull'intelligenza imprenditoriale e anche l'intelligenza musicale 8-9 intelligenze che tutti hanno in tutti alcuni possono averle più basse ad esempio quando sei dislessico la tua intelligenza linguistica è bassa però potresti avere capacità interpersonali molto buone altre persone sono molto bravi nella capacità intrapersonale quindi vedere dentro se stessi queste intelligenze speciali sono molto conosciute nelle persone dislessica e quindi se sei in una carriera puoi valutare i diversi tipi di lavoro quindi se hai una capacità corporea intelligenza corporea puoi diventare un pompiere o altrimenti puoi diventare musicista se hai intelligenza musicale e quindi vi auguro questa è la mia conclusione vi auguro una buona giornata